ciao a tutti ragazzi e bentornati su quei due sul server con un video dedicato a blender è un po di tempo che non torno a fare video su blender però non ho mollato cioè ragazzi sto continuando a fare piccoli progettini però sono cose non troppo divertenti da vedere cioè non sono quei diuramini che avevo iniziato a fare sono più che altro esperimenti per capire le funzioni e quant'altro però ultimamente una cosina voi l'avete vista avete visto la scatola del cazza di sicurezzo edizione raffinatezzo e alcuni di voi nei commenti hanno capito che fosse un rendering in blender quindi volevo farvi vedere un po come ho creato la scatola perché per me è stato un po diciamo diciamo sì un terreno nuovo un campo minato forse perché per la prima volta mi sono trovato a fare una roba fotorealistica l'avete visto io facevo queste cosine un po un po cartunesche semplici low poly per la prima volta dovevo fare una scatola che sembrasse vera e perché ho dovuto fare quella scatola perché nonostante avessi la vera scatola del cazza di sicurezzo edizione raffinatezzo fare quel tipo di riprese con quel tipo di luce con quel tipo di movimento di macchina era veramente un dito in culo non dico che non ci ho provato però poi mi sono reso conto che era veramente follia follia fare quelle riprese così al volo dentro casa avrei dovuto mettere su una certa tipologia di luci avrei dovuto montare una crocco maledetto per muovere la camera in maniera morbida insomma mi sarei dovuto fare un culo da qui a non si sa quando e allora allora ho deciso di cambiare un attimino i miei piani e ho detto ok visto che mi devo comunque sbattere devo mettere comunque le luci devo fare comunque un casino a questo punto mi sbatto ma mi diverto e faccio il mio primo lavoro fotorealistico in blender e l'ho fatto senza sapere un cazzo quindi adesso vi faccio vedere come ho ragionato andiamo a costruire una scatola simile a quella che abbiamo abbiamo visto nel video ma magari facciamo soltanto la parte superiore insomma vi faccio vedere il processo ok allora tanto per cominciare questa è la prima cosa che ho dovuto imparare in blender per realizzare la scatola come potete vedere se io clicco su questo cubo abbiamo le dimensioni che sono in metri due metri due metri due metri e io volevo i centimetri quindi ho dovuto imparare che qui su units possiamo andare a scegliere no la nostra lunghezza di riferimento in questo caso imposto su centimetri e di colpo da due metri arriviamo a 200 centimetri che è la stessa cosa però a me torna più comodo lavorare in centimetri visto che la scatola non è una bara ed è nell'ordine appunto dei centimetri quindi se non ricordo male la scatola era larga 14 ok adesso la stiamo ridimensionando era profonda 9 e poi alta più o meno 5 centimetri e 8 quasi 6 centimetri diciamo che la metà superiore della scatola dovrebbe essere una roba tipo due punto metà superiore è più piccolina diciamo 2.4 va ok e questa qui è la parte superiore della nostra scatola bellina lei bellina ok adesso come adesso abbiamo soltanto questo questo oggetto così nel nulla e so che non è proprio il massimo da vedere però fidatevi fidatevi arriveremo a farlo sembrare veramente figo ve lo prometto per darci un po più di motivazione mentre lavoriamo ci mettiamo pure un piano sotto questo oggetto creiamo un piano ecco ce l'ho qui andiamo a sistemare questa scatola più o meno appoggiata così sul piano ottimo adesso nella nostra scatola nel nostro piano hanno un materiale e vabbè frega niente va bene così per il momento ci sta benissimo rinominiamo la scatola scatola top così ci ricordiamo che è la parte superiore allora io guardando la scatolina quella vera mi ero reso conto di un po' di misure così prima di fare qualsiasi cosa vado a resettare un attimino i valori di questo di questo nostro parallelepipedo ctrl alt scusatemi ctrl alt che cretino ctrl a all transforms e praticamente mi va a resettare tutto questa è una cosa che si fa perché sennò a volte quando vai ad applicare le texture si incasina tutto perlomeno a me mi è successa sta cosa e ho visto che facendo così risolvo poi magari mi direte voi i più esperti se ci sono altre cose che devo sapere in merito a questa opzione allora andiamo a chiuderci questo menu e devo andare a bucare la scatola cioè la parte inferiore così me la vado a rimpicciolire di 0.8 perché ho visto che è più o meno 8 mm spessa la scatola quindi tutte le sue parti sono spesse più o meno così adesso vado con la visuale trasparente perché devo fare una cosa devo andare a prendere questa nuova faccia che ho creato qui mortacci tua eccola qui e me la devo estrudere verso l'alto ora non serve essere precisissimi non serve però dai più o meno così ci siamo togliamo la trasparenza e abbiamo la nostra scatoletta fin qua ragazzi praticamente ho fatto cose che può fare anche un totale neofita di blender cioè non c'è bisogno di chissà quale attenzione i cazzi arrivano adesso arrivano adesso perché questa adesso è una scatola senza materiale senza niente ed è questo il problema non puoi fare fotorealismo se non tratti i materiali in maniera veramente curata cosa che io in realtà non è che abbia fatto io mi sono arrangiato diciamo il risultato è stato molto buono e per questo vi mostro come ho fatto però diciamo che è un mondo dove c'è tantissimo da imparare io un paio di cosine le ho imparate grazie ai videogiochi perché nei videogiochi vengono usate tecniche per rendere foto realistici degli oggetti che in realtà non hanno questa grande densità poligonale e un po' di altre cose le ho imparate cercando guide su internet ragazzi viviamo in un periodo meraviglioso e io non faccio altro che gioire di questa cosa cioè veramente chiunque voglia imparare qualcosa basta che apre google è incredibile non sapevo un cazzo di blender mi hanno aiutato anche degli amici mi ha aiutato Roberto, Ro3D ho visto i video di Andresciani Francesco Andresciani però diciamo che senza google adesso sarei ancora proprio alle basi cioè prendi il cubo togli il cubo queste cose qui allora dobbiamo andare a mettere le texture su questa nostra scatola all'inizio ho provato a crearle io cioè ho provato a prendere una texture tipo legno e a disegnarci sopra no sai il logo del cazza non era male il risultato ma poi mi sono detto ma deve essere proprio vera deve essere la scatola del cazza non deve essere la mia invenzione della scatola deve essere proprio quella ce l'ho ce l'ho davvero allora mi sono fatto le foto alla scatola ho fatto la parte superiore parte inferiore laterale beh laterale in realtà è il frontale laterale destro laterale sinistro e poi il posteriore con tanto di cerniere ora le cerniere oggi non le facciamo facciamo soltanto la scatola la parte la parte superiore perché proprio voglio farvi vedere quanto quanto è figo l'effetto di realismo che riusciamo a dare a questa scatola ma poi sbattendoci pure poco quella la cosa figa una volta fatte le foto le ho unite in un foglio texture generalmente anche nei videogiochi è così tutte le texture che servono per comporre un oggetto sono sistemate in un unico foglio si fa anche per risparmiare spazio dimensioni dei vari file anche per comodità per utilizzare meglio questi file per creare tutte le cose che ci servono allora tanto per cominciare io andrei a fare una roba creiamo un materiale allora questa nostra scatola top al momento non ha nessun materiale cioè ha questo materiale di default allora chiamiamo la scatola scatola top sappiamo che questo è il materiale a cui fa riferimento la nostra scatola e va bene per il momento abbiamo colore di base bianco ma potremmo anche convertirlo in un colore un po' più gradevole giusto per lavorarci ma tanto presto questo colore sparirà perché vogliamo usare la texture ora andiamoci ad aprire la nostra texture invece di questo colore vado su base color image texture e come vedete è diventato tutto nero tutte le volte mi piglia un coccolone perché non ti fa subito scegliere la texture all'inizio non te la carica devi ricordarti di andare qua a fare open ok desktop cazza trash eccolo qua texture bene adesso praticamente che cosa succede questa è una cosa che mi ha sempre mandato al manicomio infatti quando facevo i miei primi esperimenti con cinema 4D ero diventato abbastanza bravino nella modellazione ma non capivo come funzionassero le texture ero proprio arreso sapete non ero non ero in grado poi adesso con Blender è tutto più semplice anche perché si trovano più guide poi le interfacce sono diventate effettivamente più abbordabili insomma adesso vi faccio vedere cosa sta succedendo cioè che cazzo è sto schifo che abbiamo qui davanti andiamo ad aprirci la nostra schermatina con l'UV editor ok e qui vedete la texture cioè il foglio texture in cui c'è il superiore il posteriore frontale e i due laterali non ci ho messo la parte di sotto perché in effetti nel mio video non si sarebbe mai vista quella era assolutamente inutile mettercela quindi facciamo così andiamo a cliccare su una di queste facce su una delle facce che abbiamo qui ora come potete vedere quando clicco su una di queste facce succede qualcosa nella mia schermata vedete appare praticamente la stessa faccia però rappresentata in questo modo io adesso che cosa devo fare devo capire un attimino come sistemare questo questo mio poligono in modo tale che mi proietti questa texture in maniera corretta innanzitutto le dimensioni di questa faccia come potete vedere qui sono rettangolari qui invece appaiono quadrate questo perché credo adesso non sono ancora espertissimo però se io vado a a selezionare tutto a fare U mi fa Smart UV Project vedete che cosa fa mi ha praticamente mi ha separato tutte le parti in maniera in effetti intelligente cioè mi ha riportato tutte le vere proporzioni dei vari lati in modo tale che andandole a mettere sulle texture io non abbia delle deformazioni delle cose brutte delle cose schifose a me questo questo modus operandi di Blender piace molto quindi lo vado a sfruttare mi prendo questo bel progettino Smart UV e vado a sistemarmi il mio bel cazza di sicurezzo proprio al posto suo eh? ovviamente eccolo qui vedete adesso siamo riusciti proprio a a mettere il cazza nel posto giusto ovviamente se noi andiamo a zoomare ci possiamo anche aggiustare ancora meglio queste texture in modo tale che aderiscano proprio perfettamente pixel pixel vedete qui per esempio c'era qualcosa che non andava sto evitando queste parti più chiare perché poi risulterebbero in un bordino bianco fastidiosissimo ai bordi ecco qui così così e così ottimo quindi io praticamente che ho fatto adesso? sono andato a crearmi la parte superiore sono andato a texturizzare questo primo poligono che compone diciamo il tappo della scatola la parte frontale ok la parte frontale qui nel nostro smart project smart UV project non ce la dà in orizzontale ce la dà in verticale e questo perché si tenta sempre di ottimizzare tutti gli spazi è ovvio è chiaro io quindi devo capire un po' come ruotare questo poligono all'interno del mio foglio texture allora mi servono dei piccoli riferimenti in questo caso il mio riferimento potrebbe essere ok eccolo qua vedete qui a sinistra c'è questa macchia d'inchiostro nel lato superiore bene quindi io prendo questo me lo passo qui oh perfetto vedete che qui sono riuscito a sistemare tutto come si deve ottimo vuol dire che il verso è quello giusto perlomeno io faccio così però sono sicuro che esistono sistemi un po' più intelligenti meno dementi per capire se si stia centrando la la texture la texture per bene ok adesso ci andiamo a sistemare bene 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 questi bordini qui oppla qui poi correggeremo un pochino il tiro perché vanno ottimizzate un po' queste cose adesso sto facendo un lavoro molto geometrico ma questa è una scatola di legno ragazzi questo è pieno di di irregolarità di cazzo è legno non puoi sperare che che sia tutto perfetto preciso ok abbiamo sistemato anche questo frontale che è bellino solo che ci sono un po' di incongruenze vedete qui che non corrisponde proprio benissimo queste queste parti non sono proprio perfette però si possono aggiustare poi le aggiustiamo adesso però dobbiamo texturizzare anche tutto il resto allora io ricordo che quando ho studiato la scatola ho notato che questi due palletti questi due chiodini stavano nella parte frontale quindi sarebbero su quest'angolo qui devo fare in modo che quindi ok vediamo ok e deve essere proprio l'esatto contrario perché per il momento mi è capitato dall'altro lato ok adesso è giusto vedete sono riuscito adesso c'è poca luce aspettate che metto un po' di luminosità in questo mondo se no veramente non si vede una sega render studio texture sfondi hd array piccolo studio ok molto 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 meglio andiamo qui e possiamo spegnere o accendere vabbè per il momento ci sta bene ci sta bene così frega cazzi l'importante è che abbiamo un po' più di luminosità possiamo vedere un pochino meglio ok allora anche questa l'abbiamo azzeccata che vedete c'è questo coso in alto questo coso in basso io ripeto ragazzi è un sistema assolutamente empirico di chi sta ancora imparando secondo me esiste un sistema più facile per capire se si sta texturizzando la parte giusta però io ho fatto così e non ho sbagliato perché le ho messe tutte per benino ok ora sto facendo un video proprio tranquillo tranquillo tra l'altro è tardi è sera tardi e e quindi sono anche un po' rilassato un po' un po' sonnacchioso questo video avrà un ritmo sicuramente un po' blando un po' tranquillo allora anche qui dobbiamo andarci a prendere quel pipiricchio lì e dobbiamo farlo capitare davanti così potrebbe essere giusto ok però c'è una cosa che non va bene devo invertire questi perché se no ok vediamo vediamo che succede perfetto giusto credo di sì nel senso uno e due però mi sa che ci ho messo lo stesso pipiricchio no no sono pipiricchi diversi scusate il termine pipiricchio ma non so come chiamare sti cazzo di chiodini che ci ha messo questo ok io credo credo fermamente che opla tra qualche anno la modellazione 3D diventerà molto popolare sapete e lo sto vedendo con i miei ex colleghi fumettisti fumettari già due di loro sono caduti in questa trappola e stanno stanno facendo cose anche belle è una cosa che ti piglia bene soprattutto se sei un po' un po' un creativo diciamo che è la fase è un po' la crisi di mezza età dei creativi e forse il il 3D che ti avvicina un po' sai a Dio puoi creare le cose dal nulla un po' magico no ma poi in effetti è veramente comodo scherzi a parte ragazzi a parte questa cosa che ti senti Dio perché crei le cose è proprio comodo se sei un creativo cioè io avevo veramente problemi a fare quelle cazzo di riprese con la scatola e invece grazie a questo software non ho proprio non ho battuto ciglio tranquillissimo proprio ok adesso la parte inferiore della scatola che è la cosa meno complessa diciamo così perché alla fine non ci interessa che sia perfetta infatti io prendo un pezzo di legno a caso vedete sto prendendo pezzi di legno a caso e li sto adattando all'interno della mia scatola il fatto che io abbia fatto Smart UV Project però produce questo effetto di proporzionamento cioè quindi queste questi lati che sono riuscito a creare facendo quel progetto UV sono già proporzionati in maniera giusta quindi la texture non si spalma cioè il legno è giusto e questa è una cosa brutta ogni tanto la vedete anche nei giochi quando vedete soprattutto negli open world che sono sicuramente quelli più più complessi anche perché credo che molto spesso le mappe degli open world siano in alcune zone siano anche autogenerate o comunque siano modellate un po' così un po' grossolanamente non è un lavoro di fino chi è che si metta a modellare ogni singolo angolo della mappa di Far Cry 4 ecco ogni tanto succedono questi piccoli problemi con le texture e le vedete un po' spalmate un po' allargate opp e opp noi però qui non dobbiamo fare un'intera isola dobbiamo fare una scatola quindi dovremmo vergognarci se se venisse di merda il lavoro ok la scatolina c'è la scatolina c'è è bellina togliamo adesso questa luce questa luce non mi interessa interessa molto di più oppla questa luce qui me la sposto ben benino nella scena in questo modo ok dove è la luce eccola lì allora questa è una cosa abbastanza importante piazzo già un paio di luci so che può sembrare prematuro perché non abbiamo ancora finito di né di modellare né di texturizzare però è importante che io abbia una bella resa della scatola per il semplice fatto che dovrò stare attento anche a questa cosa per generare il materiale del legno perché adesso vedete che non sembra legno la scatola cioè ha la texture del legno cioè è una scatola con sopra il disegno la foto del legno ma il materiale non reagisce alla luce vedete cioè reagisce così il legno no questo è un tavolo di di vetro che reagisce così al legno cioè alla luce quindi dobbiamo creare un po' una situazione di luci che siano che siano fatte bene ombre di contatto ok creo anche un'altra luce me la sposto di qua light ok light 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 2 questa la spostiamo di qua ovviamente siccome non voglio fare una illuminazione alla duccio patanè questa seconda luce la facciamo un po' meno potente in modo tale da dare un po' di profondità a questa scena eh già già è una bella scatolina devo dire la verità già è una bella scatolina dobbiamo sistemare un po' queste piccole anomalie vedete qui nell'angolo combaciano un po' male queste texture allora per sistemare queste anomalie in realtà non è così complicato basta suddividere un po' di volte questa scatola in questo modo vedete l'ho suddivisa faccio la stessa cosa anche da quest'altro lato hop adesso è tutto bello ordinato perfetto bella bella tutta pulita tutta precisina che cosa succede adesso allora succede che possiamo andare a diciamo così sistemare un po' l'orientamento delle nostre delle nostre texture allora qual è il fronte il fronte è questo andiamoci a selezionare tutte queste faccette belle qui vedete facendo questo abbiamo selezionato solo queste facce torniamo un attimino sul nostro uv editor e ce le vediamo vedete sono praticamente esattamente dove erano prima soltanto che adesso vediamo anche la la suddivisione una volta che siamo a così suddivisi possiamo andare a spostare un po' di questi punti per generare in effetti hop un effetto di vedete allora qui non posso fare moltissimo vado a dividere ulteriormente questa parte perché ce n'è effettivamente bisogno hop hop sto parlando come come up umpa ho detto hop hop ok vedete che adesso siamo riusciti a far combaciare tutto anche qua sotto magari per non far sembrare che questo legno sia storto andiamo a raddrizzare un filino ecco così e così eh e abbiamo raddrizzato il legno cioè abbiamo fatto combaciare questi questi strati di legno andiamo anche qui magari possiamo dividere ancora un pochettino tac tac perfetto andiamo di qua e andiamo a sistemarci anche questi sì vedete ok mi vado ad allineare questa crepa esattamente nel punto giusto anche qui ci sarebbe da fare qualcosina ma vedete poi sforiamo andiamo sul bianco non è che si possa fare molto magari possiamo lavorare su questa ecco qua e abbiamo allineato tutto ora si può lavorare di fino si possono fare un sacco di cose però a noi già sta bene così già la scatola è è abbastanza seria diciamo ora materiale materiale perché questa non è la risposta che mi aspetto dal legno una volta che ci ho messo delle luci no? cioè non dovrebbe fare questo effetto qui ovviamente ci sono già dei parametri che posso toccare tipo la specularità abbasso la specularità o la ruvidezza tra virgolette del materiale vedete ma come faccio faccio comunque la superficie non sembra la superficie regolare del legno sembra tutta un'altra cosa quindi quello che devo fare è andare se sembra strano su Photoshop bene mi sono appena andato ad aprire un file e questo file l'abbiamo già visto è il file delle texture ok? adesso devo praticamente convertire queste foto che sono semplicemente immagini realistiche in informazioni per il mio software cioè in che modo io capisco che la superficie è irregolare che magari è piena di buchetti di granelli di polvere incastrati sotto il lucido della scatola come faccio a ottenere questa cosa? allora questa è una tecnica che si usa pure nei videogiochi ed è la tecnica della mappatura normale si chiama normale anche se è eccezionale secondo me più che normale praticamente si riescono a convertire dei valori che vanno dal bianco al nero passando per tutta una scala di grigio in dati di rilievo cioè quindi noi possiamo in maniera fittizia del tutto inventata far credere alla luce che sta sulla nostra scena che quella superficie totalmente piatta che è la nostra scatola sia in realtà piena di dettagli piena di piccole crepe piena di di polvere e noi vogliamo che questi dettagli siano il quanto più possibile corrispondenti a quelli che ci sono sulla nostra texture quindi la cosa più intelligente da fare è convertire questa immagine in una mappatura normale che quindi darà alla luce presente sulla nostra scena un'idea di dove si trovino i rilievi le asperità e via discorrendo allora tanto per cominciare si fa questo bianco e nero bam è qui già tanta roba ci andiamo a schiarire un po' i gialli ok e adesso lavoro di curve dobbiamo andare a creare molto molto contrasto cioè vogliamo che le zone scure siano veramente tanto scure vogliamo che le zone chiare siano veramente tanto chiare insomma dobbiamo creare una situazione ad alto contrasto così ok lavoro anche un pochino così per riguadagnare un po' eccoci qua che mi riesce anche più semplice benissimo ok allora adesso quello che abbiamo ottenuto è questa roba qui è un'immagine bianco e nero super mega ultra contrastata e in realtà possiamo anche disegnare noi qualcosa su questa scena e adesso fortunatamente ho attaccato la mia tavoletta grafica quindi possiamo fare un piccolo esperimento per vedere se in effetti funziona allora tecnicamente se sono bravo a impostare questa mappa normale le parti nere saranno scavate le parti chiare saranno in rilievo quindi il nostro cazza in realtà è è in super rilievo rispetto al resto se io volessi accentuare questo rilievo con il mio bel pennellino potrei andare a fare questa cosa ok un attimino ok opacità come vedete sto andando a schiarire ulteriormente il mio cazza questo modo perché voglio che risalti particolarmente siccome non voglio che risalti in maniera fittizia finta sto lavorando a mano perché questo è legno se faccio un unico blocco bianco viene una roba che più finta non si può voglio mantenermi tutti belli questi questi rilievi ok ok praticamente sto aiutando la mia futura mappa normale a capire meglio dove ci sono i rilievi e poi magari l'aiuto pure a capire meglio dove mi deve fare le cose scavate usando ovviamente il nero perché il nero lo prendiamo come se fosse un buco cioè uno scavo nella nostra immagine quindi vedete qui tutte queste belle cose adesso qua ci mettiamo un po' di nero assoluto che si tradurrà ovviamente poi sul nostro progetto in un buco molto profondo così anche qui vedete c'è questa piccola crepina la facciamo fatta bene ok anche queste volendole potremmo accentuare renderle ancora più più intense perché non sono nero assoluto sono nere ma noi lo possiamo fare ancora più scuro vabbè diciamo che abbiamo fatto risaltare un po' questo nostro cazza adesso è proprio è proprio super scavato volendo potremmo anche accentuare un po' il salto di questo rilievo andando a scurire no la parte appena sotto però vabbè per il momento sti cazzi tanto è una cosa che faccio proprio per farvi vedere l'effettone che fa ci potremmo anche divertire facendo un disegno qui poi magari lo mettiamo lo texturizziamo facciamo 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 una faccia così facciamo un bel personaggio con in braccio una una motosega ok mo devo trasformare tutto questo in una mappa normale e non è non è una cosa non è una cosa troppo difficile in realtà questa è una cosa che ho scoperto in realtà da poco se andiamo su filtro 3d genera mappa normale tutto quanto avviene in automatico è tutto assolutamente automatico ora a me sembra che sia andata per il meglio mi sembra che sia tutto mi sembra che sia tutto giusto in realtà vediamo ti dà anche una piccola preview possiamo anche cambiare il verso però da qui è difficile capire scusatemi è cubo forse col cubo si capisce un pochetto meglio ecco meglio infatti oh questo è perché così mi viene vedete il cazzo è scavato in questo modo è giusto è tutto giusto vedete che bell'effetto che otteniamo con il legno ok mi direi ok e ci ha generato la nostra mappa normale vedete che già si si intravede proprio il tutto il rilievo che si è generato ok poi questi sono tutti i colori che se li capisce lei la mappa normale cioè il verde il quell'arancio se li capisce lei io non ci capisco un cazzo salva con nome cazzo a trash e la chiamiamo normale e torniamo nel nostro blender ok ora dobbiamo andare a interagire ancora con il nostro materiale allora possiamo andare qui su in realtà possiamo fare tutto da questa schermata perché questo va normale andiamo sempre nelle proprietà del nostro materiale normale vediamo se ci fanno caricare da qui una normal map non mi fai caricare una texture non me la fai caricare ma te la metto io di cattiveria ok facciamo la vecchia maniera con i nodi volevo farvela più pulita per non rincoglionirvi con la schermata dei nodi ma a quanto pare non lo so fare non è che non si può fare non lo so fare quindi andiamo qui carichiamoci una image texture questa image texture deve essere ovviamente la nostra normale cazza trash eccolo qua normale e adesso andiamo a collegare qui tacchete ragazzi ma che cosa è successo di colpo il cazza è in rilievo perfettamente in rilievo il legno è pieno di asperità pieno di imperfezioni di colpo questa scatola è molto molto più vera e adesso adesso che abbiamo la nostra superficie vera possiamo andare a lavorare anche di più sulla specularità sulla ruvidezza e tutte queste belle cosine andando a creare il classico effetto legno che avete visto anche nel nel video ora queste luci le andiamo a spostare in modo tale che ci diano un bel effetto in un modo o nell'altro allora luce 1 come la spostiamo vediamo luce 1 la mettiamo di qua eh ci ha dato già un bel effetto allora c'è una cosa che non vi ho detto ragazzi vedete questo questo cazza questo cazza vediamolo così questo cazza questa foto ha già le luci cioè perché è la foto vera della scatola del cazza quindi c'erano tutti i riflessini bianchi vedete sui bordi del cazza ci sono questi riflessini bianchi e quindi è meglio che io le luci le metto da quel lato lì perché così sembra più realistico cioè il fatto che ci siano quei riflessini è giustificato perché tecnicamente una texture non dovrebbe averci le luci dentro non dovrebbe è un errore ok però vabbè noi allora light vediamo e qui ci possiamo fare già un'idea di dove ecco qui qui abbiamo veramente un ottimo un ottimo effetto luce 2 questa la spostiamo luce 2 luce 2 luce 2 la mettiamo un pochino più in qua io voglio prendere la scena da qui perché mi fa veramente un bel effetto il legno vedete oppla posso anche diminuire un po' così zero ok ah più o meno forse è troppo lucido è vero che le scatole del cazzo sono lucide nel senso c'è c'è proprio tutto uno strato di lucido passato sopra quindi non è così dissimile dal materiale originale però l'hai visto mai diminuiamo un po' la luce di questa ecco qui mamma mia ragazzi tanta roba ora le immagini che avete visto voi erano fatte ovviamente con due con due scatole così una sull'altra facciamo rotazione di 180 e portiamo su cioè c'era anche la parte di sotto no? quindi c'era tutta la scatoletta fatta fatta bene sopra e sotto andiamo a rimettere il nostro plane e lo spostiamo sotto così dicevo le immagini che avete visto voi erano strafighe perché c'era anche una camera virtuale allora qui facciamo così mettiamo un colore sul piano pavimento così risalta un po' meglio è più figa questo verdino qui allora dobbiamo impostare un attimino una camera virtuale cioè proprio una macchina fotografica o una videocamera che riprenda la scena perché viene più figo viene ancora più bello prima di fare questa cosa però vado a cambiare un po' di cosine nel mio motorino di rendering cioè lo rendo un attimino più performante gli sto alzando di dettagli ragazzi andiamo ad attivare tutte queste belle cosine mettiamo anche un high big depth per le ombre ok vedete è molto convincente adesso però non abbiamo ancora creato la nostra camera ora questa qui è la nostra bella camera tutto quello che sceglieremo di fare in questa in questa nostra inquadratura entrerà nella nostra ripresa tra virgolette sì possiamo chiamarla ripresa perché alla fine ci abbiamo fatto un video quindi non è una foto andrei a cambiare un attimino la lunghezza focale di questa nostra camera perché 50 mm mi sembrano esagerati fare una bella ripresina eccola qui con un bel che ci ho messo 23 mm proprio aggressivo ok bello grandangoloso profondità di campo quando attivi la profondità di campo si crea proprio la magia perché vedi che è una roba è una roba vera dobbiamo scegliere l'oggetto da mettere a fuoco in questo caso mettiamo a fuoco la nostra scatola forse ci conviene scegliere ecco diciamo 20 cm prendiamo il fuoco intorno ai boh sì dai sulla palla chiudiamo un po' sto diaframma che è troppo aperto troppa troppa la parte sfocata ok facciamo 19 cm a questo punto così che bellezza guardate che bellezza con questo piano color cagarella non mi fa impazzire mettiamo un colore un pochino più scuro così ci risalta meglio la scatola d'altra parte anche lì avevo messo un nero pieno proprio e ciò che ci siamo lo facciamo molto speculare così ci fa anche un bellissimo riflesso della della scatola eh ragazzi che meraviglia eh che bellino che è il nostro cazza il cazza nella scatoletta in realtà sulla scatola che avete visto voi avevo creato proprio un altro livello per far venire ancora più su il cazza non avevo fatto la cosa con il bianco come ho fatto qui però vabbè insomma non è male non è male che dovevo fare allora camera mettiamo il fuoco un pochino più sul coglione così perfetto chiudiamo fino a 5 e niente possiamo già provare a fare un piccolo rendering solo che qui è fammi 3840 per 2160 facciamo un bel rendering e vediamo come viene questa scatola wow si sta prendendo il suo tempo ma oh 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 ah 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 fuck bene ragazzi abbiamo fatto una bella scatoletta questa cosa la userò anche come thumbnail del video perché no e noi ci vediamo al prossimo video ah facciamo una cosa facciamo una cosa innanzitutto questa me la salvo la mettiamo proprio nella cartellina di questo progetto ecco qui hopla li chiamiamo thumbnail questo è meta youtube ragazzi cioè vi faccio vedere mentre creo la thumbnail guardate che ok l'altra cosa che vi volevo far vedere era questa usciamo da questa visuale con la con la videocamera e andiamoci ad aprire un attimino l'uv editor sì scatola top normale ok allora se io mi prendo adesso queste questa parte qui per esempio e me la sposto su questo disegnino cioè guardate qui è fichissimo e quando sposto la luce porca troia voglio spostare la luce fammela spostare portacci tua aspettate si stiamo un attimino questa roba ok dicevo ecco quando sposto la luce guardate cioè questa roba qui reagisce a dove noi mettiamo la luce adesso quest'altra la spegniamo così si vede ancora meglio cioè guardate qua una normal map praticamente crea un rilievo dove non esiste e la luce reagisce alla normal map in maniera reale realistica è figo è veramente molto figo vabbè ragazzi noi ci vediamo alla prossima abbiamo fatto veramente un disastro ci torniamo indietro torniamo alla nostra scatola che mi dispiace averla massacrata così noi ci vediamo alla prossima spero che questo video vi abbia fatto divertire fatto rilassare un pochino e magari vi abbia fatto capire come mai nei videogiochi vedete quelle cose così vere vere anche se ci sono quattro poligoni in croce